Poi potrebbe diventare invece semplicemente più, diciamo, più covert, più ossequioso, fare un, dimostrarsi dimesso verso persone forti. E quindi, ma l'obiettivo però è esattamente sempre lo stesso, l'obiettivo è sempre quello di approvvigionarsi, approvvigionarsi di, diciamo, del controllo dell'altra persona. Quindi è possibile, non è detto che si verifichi, ma è come dire, fin tanto che un tipo di approvvigionamento funziona, cioè fin tanto che il narcisista Overt riesce ad agganciare, tra virgolette, le sue vittime, tra virgolette, con, diciamo, questo suo comportamento, continuerà a portarlo avanti. Quando non riuscirà più in questo aggancio, o se non riuscirà più in questo aggancio, è probabile che dentro di lui scattino dei meccanismi per cui svilupperà esattamente la tipologia inversa, cioè il covert. Quindi, poi ci sono anche tipologie narcisistiche un po', tra virgolette, di loro bipolare, che alternano un passaggio dall'altro. E lo stesso discorso avviene con il narcisista covert, che potrebbe in alcuni casi, diciamo, passare in certa situazione ad essere overt, cioè manifestatamente superiore, ineguagliabile, vittorioso, non, diciamo, sprezzante verso gli altri, anche arrogante, presuntuoso. Ecco, quindi, attenzione che la stessa tipologia, quando notate queste polarizzazioni da una parte all'altra, beh, questo è un altro segnale che ci indica che possiamo avere, diciamo, a che fare con una, con un narcisista. E quindi non, se vediamo che una persona, ad esempio, prima ipotizzavamo che era narcisista perché era overt, e poi in alcune circostanze lo vediamo covert, non pensiamo, ah, forse mi sarò sbagliata, mi sarò sbagliato, non è, questo non è narcisista. Assolutamente no. Anzi, proprio per questa alternanza di comportamenti è il covert e l'overt coesistenti in una persona. Quindi la nostra mente duale è un approvigionamento narcisistico binario. E quindi state all'occhio anche in questi casi, perché può accadere. E quindi ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Crescita Personale con Massimo Tramasco, attivare la campanella e abbonarti. Con l'abbonamento al canale Crescita Personale con Massimo Tramasco potrai partecipare alle live domande e risposte, io risponderò alle tue domande in apposite live.